Noi ci diamo appuntamento a domani, come al solito, con sempre grandi novità, con sempre grandi cose, grandi discorsi, grandi momenti di vita quotidiana, vissuta e non. E non, giusto. Un programma che tratta di vita vera. Di vita vera, tratto da una storia vera, signori. Questo è il Night Express, ogni sera, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 23, sintonizzati sempre perché si chiacchiera. Bene amici, allora salutiamo Mattia Grisau, un chicco all'otta, grazie ragazzi. Ciao raga, grazie. Bene, da Rebecca Stappelli e alle Sansone, l'appuntamento è domani, grazie a te Rebecca, grazie a tutti voi per essere sempre con Night Express, buona serata. Ciao, buonanotte. Eh, c'era.